Percorsi turistici in grado di far conoscere e valorizzare le sorgenti del Matese. È stata questa l'idea dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo del Molise, che in connubio con Molise Acque darà una vetrina al nostro Oro Blu. Avverrà durante il Salone del Camper di Parma, in programma dal 14 al 21 settembre prossimi, le sorgenti nel turismo come mezzo di promozione del territorio molisano. Di acque si parla sempre, mare, fiume, laghi, ma nessuno mai parla di acque, delle sorgenti da cui partono le acque. O meglio, si parla solo quando si va a comprare la bottiglia di acqua minerale dove c'è scritta la sorgente da cui proviene. Molise è pieno di sorgenti, c'è quella fondamentale del Matese, dove c'è una grossa galleria già visitabile, dove nasce l'acqua del Matese. Qui sono altre sorgenti all'interno del Molise. Collegarli, come stiamo cercando di farlo, con un discorso che possa interessare innanzitutto i camperisti, che sono quelli che camminano di più, e poi tutto il territorio, penso che sia la cosa più importante, per dare una possibilità non solo di valorizzare il territorio, ma di creare spunti economici per quelli che vogliono approfittare di questa iniziativa. Noi vogliamo che le sorgenti del Matese, che hanno delle connotazioni naturalistiche, ingegneristiche, e quindi sono di sicuro appeal per qualunque turista, facciano parte del patrimonio turistico del Molise, insieme ai nostri borghi, al nostro mare, alle nostre montagne, ai nostri beni archeologici e storici.